28 maggio 2023. Questo è il fatidico giorno in cui si è concluso uno dei capitoli più belli non solo della storia del calcio inglese, ma dello sport in generale. Dal 1992, anno in cui è stata istituita la Premier League così come la conosciamo oggi, sono state soltanto 7 le squadre capaci di vincere un titolo. Manchester United, Blackburn, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool e infine la più inaspettata e improbabile di tutte, il Leicester City. Stagione 2014-2015, giunti alla trentesima giornata di campionato, le Foxy sembravano spacciate e destinate a retrocedere in championship. Erano infatti ultime con soli 19 punti, a meno 7 dalla salvezza. Salvezza che tuttavia, clamorosamente, arrivò grazie a 7 vittorie nelle ultime 9 partite. Ma la corsa del Leicester non si fermò lì, niente affatto. Sotto la guida di Claudio Ranieri e trascinato dalle prestazioni monstre di Vardy e Mare su tutti, le Foxy si riuscirono, contro ogni aspettativa, a vincere la Premier League 2015-2016. Qui ebbe inizio la Golden Age del Leicester che, nei sei anni successivi, ha raggiunto i quarti di Champions e la semifinale di Conference e ha aggiunto altri due trofei alla propria bacheca, un FA Cup e una Community Shield. Tutte le storie belle però prima o poi finiscono e la stessa cosa è successa a questa squadra. Nel 2022-2023, la scorsa stagione, tutto ciò che poteva andare storto è andato storto e proprio il 28 maggio 2023, il Leicester ha concluso il campionato di Premier League al diciottesimo posto, retrocedendo così in championship. Da qui ha inizio la nostra avventura. Avremo a disposizione cinque stagioni per provare a riportare le Foxy di Enzo Maresca non solo in Premier League, ma anche a competere per uno slot nelle competizioni europee. Riusciremo a ricostruire questo team? Scopriamolo insieme! Luglio 2023 comincia l'avventura di Enzo Maresca sulla panchina del Leicester City e come in ogni rebuild che si rispetti la primissima cosa da fare è andare a dare un'occhiata alla formazione. O meglio, non tanto alla formazione perché è un normalissimo 4-3-3, quanto più ai giocatori in rosa perché sarò sincero, dopo l'elettrocessione del Leicester io non ho idea di cosa abbiano combinato. Allora, per quello che riguarda i portieri, credo che il titolare sia Hermansen, 74-22 anni, ma non mi sembra abbastanza buono. O meglio, magari lo è in prospettiva, ma io ho bisogno di qualcuno che possa garantirmi un ritorno immediato in Premier League. Quindi forse Hermansen rimane come secondo? Non lo so. Deremo un'occhiata. Come terzini siamo messi benissimo perché abbiamo Thomas, Justin, Kristiansen, e dall'altro lato pure Riccardo Pereira che magari farà giusto le prime 2-3 stagioni per poi essere sostituito. Mentre al centro della difesa, ragazzi, ha messi malissimo perché l'unico semidecente è Faes, che però vedendolo Irlum mi dà tantissima sicurezza. Altri giocatori come Cody o Vestergaard sono troppo vecchi, quindi qua dovremo fare una piccolissima rivoluzione. A centro campo invece siamo perfetti perché giocherò con due cdc, a Candidì e Sumaré più Dewsbury Hall leggermente più avanzato e abbiamo anche delle riserve più che ottime, quindi very nice. Casadei lo terrò? Forse sì? Forse conviene riscattarlo e tenerlo come riserva di Kiernan? Forse, non lo so. E infine dopo un centro campo pressoché perfetto abbiamo un attacco che lascia molto a desiderare con Vardy che forse si ritira al termine della stagione. Grazie Jamie ti farò fare quest'ultima annata giusto per permetterti di riportarci in Premier, ma al di là di Vardy che abbiamo, ma Vididi può essere un nome interessante? Dovrei provare a riscattare sia il turco Agun che il ganese Fatawu, poi però servirebbe almeno un altro nome un minimo più interessante. O forse no, forse questo primo anno lo faccio così, non lo so, staremo a vedere. Intanto andiamo a fare un paio di cose intelligenti come 1. Richiamare Sumaré dal Siviglia e 2. Riscattare questi tre dalle varie squadre. Poi vediamo 1. Quanti soldi ci avanzano e 2. Anche chi mettere in vendita. E rieccoci back. Alla fine per Agun, Casadei e Fatawu ho speso circa 10 milioni. Ho anche già rinnovato tutti quanti i contratti in scadenza dei giocatori che mi interessa mantenere all'interno della rosa e nonostante questo mi avanzano comunque ancora 44 milioni. Ma ovviamente non è tutto. Perché sul mercato ho messo Smithies, Cody, Westergaard, Ward, Iversen e Nelson che insieme dovrebbero fruttarmi circa 14 milioni. Più vabbè i prestiti di Marsal, Braybrook e Cannon che però non sono così importanti intanto. Questo porterebbe il mio budget a circa 60 milioni che però sappiate non intendo spendere tutti altrimenti saremmo già a posto per tutta quanta la rebuild. Anche perché gli acquisti non ne dobbiamo fare moltissimi. Cioè servono giusto un portiere titolare, due difensori centrali titolari e due terzini che facciano qui giusto un anno mentre aspettiamo che i nostri crescano allo Sheffield e al Bologna. Quindi vediamo se c'è qualche terzino interessante in giro. Giusto Nadir Zortea e basta. Ma c'è davvero così poca gente in giro in prestito? Mamma mia che tristezza raga. Qualche terzino un po' ignorante ce l'abbiamo. Bello il marocchino a tiattalla. Perfetto, sappiamo chi prendere per un singolo anno. Mentre per quello che riguarda i tre acquisti che finiranno poi nella formazione titolare io andrei a scavare proprio tra Championship e Premier League. Poi che ne so, magari andiamo a pescare dalla Serie A, dal campionato portoghese, dalla Ligan. Ma questo mi sembra un buon punto di partenza. Spesso gli inglesi non vanno troppo all'estero. Questa è una cavolata perché vanno sempre all'estero. Comunque ci siamo capiti. Ecco, non ironicamente. Un nome come Johnstone potrebbe essere interessante. Certo, non mi può fare più di due anni. Però 77 di overall è un buon upgrade. Nel frattempo Hermansen può crescere abbastanza. E ha senso anche perché Johnstone stesso è bloccato da Henderson al Palace. Dall'Italia potrebbe invece essere interessante Di Gregorio perché comunque ha 25 anni, sta crescendo molto. Certo, magari non sarebbe il cambio di carriera che uno si auspicherebbe per un portiere come Di Gregorio ma vederlo tra due stagioni in una squadra di più o meno media classifica in Premier beh, non dovrebbe essere male. E come non detto, ritiro tutto. Voglio assolutamente Lars Unnerstal tedesco del 20. 32 anni, 79 di overall che per l'appunto mi potrà permettere di fare il passaggio dalla Championship alla Premier. Nel frattempo Hermansen ha tempo di crescere e nel caso forse anche superarlo. E qualora il danese non dovesse crescere tanto possiamo comunque cercarne qualcuno di nuovo di portiere. Tra parentesi in Olanda hanno tutti quanti dei cognomi meravigliosi tipo Wellenreuter, Schöndervalt, Rom, Jäden o Uso o Duro. Cioè, quando mai li trovi dei nomi del genere? Meraviglioso. Mentre per quello che riguarda i due difensori centrali uno sarà Saul Coco perché parliamone, dove lo trovi tu un difensore centrale della Guinea equatoriale? Soltanto alla Spalmas, ecco dove lo trovi che giocatore incredibile. Mentre accanto a lui sono abbastanza indeciso tra Ahmed Osic dello Sheffield Godfrey dell'Everton oppure Gnacaté del Nottingham Forest. Forse tra i tre punterei il più giovane quindi quello dell'Everton. O di realtà no, non è vero non è lui il più giovane, Ahmed Osic. Però lui se non sbaglio l'ho già preso di recente in qualche video. Quindi andiamo intanto a spendere 5 milioni e 8 per l'ormai ex centrale dell'Everton. Ma come non è il miglior prezzo possibile? Frate, ma chiedevano 6 milioni? Come 4 e mezzo? Offriamo 11 milioni, 111 mila e 111 euro alla Spalmas, ti prego. Ah, peccato. Sarebbe stata una bella cifra meme. Alla fine si accontentano di 13 milioni e 500 mila. Molto bene. Benvenuto Saul. E minchia quanti soldi vuole il 20 per un 32enne? Fra, anche meno, eh. 9 milioni e mezzo. Non gli vanno bene 9 milioni e mezzo. Ma stai scherzando? Hanno accettato 9 milioni e 600 mila? Ma minchia, oh, che difficoltà. 26 mila e 500 di stipendio, 170 mila di bonus. Perfetto, fra. Benvenuto Lars. Dentro anche a T.A. Talla per un solo anno a zero. Mentre per Zortea dovremo aspettare che sia lui ad accettare la nostra proposta dato che l'Atalanta ormai è già d'accordo. Mentre guardando un attimo il lato più gestionale della nostra rosa, l'idea tattica che utilizzerò sarà gioco sulle ali perché è quella adatta al 4-3-3. Per il momento i preparatori fanno schifo tutti quanti dal primo all'ultimo, ma continuerò a cercare per tutta la stagione i preparatori con 5 stelle abilità in gioco sulle ali. Molto bene. E per l'appunto questa dovrebbe essere la formazione titolare per il primo anno. Andrà bene? Chi lo sa. Intanto devo ancora vendere un botto di gente per con la rosa che è super incasinata. Attualmente ho 40 giocatori. Ah, e Zortea ha accettato il prestito. Perfetto, grande Nadir. Prima cessione Iversen al Rangers che ci sta come spostamento. Seguito a ruota da Braybrook che va in prestito in MLS. E Marsal che invece rimane in Championship per andare al Southampton. Va via anche il signor Tommaso Cannone che si divertirà in Spagna per 12 mesi. Tra l'altro a Mallorca, amica un postaccio. Salutiamo anche Westergaard che va al Brugge per 4 milioni e 3. Ward che va al Celtic per 2 milioni e 6. L'ex-Samp e Toro Praet allo Sporting per 7 milioni e 4. Ha giocato al Torino o ho detto una cavolata? Ci ha giocato molto bene. E arrivati al 29 luglio, giorno della prima partita in Championship, teoricamente dovremo ancora vendere Smithies, Nelson e Cody. Ma vabbè, il più grosso l'abbiamo fatto ormai. Andiamo quindi a simulare insieme questo primo game contro il Birmingham. Speriamo vada bene e pareggiamo uno a uno. Nonostante gli ospiti fossero in dieci dal quarantesimo minuto. Molto male, regà. Se il buongiorno si vede dal mattino, regà, qua siamo in coma profondo. Ed è anche vero che la Championship è un campionato molto imprevedibile ed equilibrato, ma neanche così tanto. Cioè, io dall'estero mi aspetto come minimo la promozione diretta, se non addirittura al primo posto. Vabbè, ci rivediamo a fine stagione nella speranza di vendere tutti quanti e avere uno staff decente ora di maggio. Maggio 2024 si è appena conclusa la regular season della Championship e siccome non vedo nessun tipo di playoff vuol dire che o li abbiamo missati oppure siamo sediti direttamente in Premier, ma vedendo la stagione che abbiamo fatto mi stupirei se non siamo arrivati primi. E porca puttana, siamo arrivati secondi con 108 punti. Secondi con 108 punti. Mai successo in tutta la vita. Vabbè, complimenti al Middlesbrough che vince questa Championship. Io, in cuor mio, sto rosicando di brutto. E la squadra sembra essere cresciuta abbastanza. Non tantissimo, ma abbastanza. Ho sicuramente dei grandi problemi di umore perché sono tutti quanti mezzi scazzati per, boh, ragioni inspiegabili. Per le prestazioni della squadra, certo, arrivare secondi, pessima cosa, eh. Abbiamo fatto 100... Quanto è il record di punti in Championship? Attualmente il record è di 106 punti ottenuto dal Reading nel 2005-2006. Vuol dire che noi abbiamo appena battuto il record migliore di tutti i tempi, ma qualcun altro ha fatto meglio di noi. Tipo la Roma 7-8 anni fa quando ha perso lo scudetto dalla Juve con un record di punti. Ora è al Napoli, non ricordo, moh. Stessa cosa, non potete essere scontenti. Qualcuno ha chiesto la cessione, sicuramente, vero? In realtà no, sono soltanto scazzati a caso. Devo assolutamente sistemare un attimino l'importanza delle gerarchie della squadra, ma per il resto ci siamo. Crescita importante per Abdul Fatahou che fa più serie, va a un 77. Jamie Vardy che nella stagione d'addio al calcio segna 9 gol in 16 presenze, non male. Bomber indiscusso però che Leci e Nacio, 28 gol in 41 partite. Seguito proprio dal Ghanese con 19-8, Mavi Didi con 17-9. 9 gol per Dewsbury Hall che da centrocampista ha fatto un'ottima annata. 3 per Riccardo Pereira, 3 per Feist, Didi, Agune e McAteer. Bravo McAteer. Però crescite tanto importanti non ce n'è state. No, giusto una serie di più 3, più 2, un più 4 di Coco e il più 6 di Fatahou. Per il resto ci siamo come squadra, eh. Per l'anno prossimo in Premier non credo di voler cambiare molto. Certo, cambieranno i terzini di riserva con Thomas e Christensen che rientreranno dai prestiti. Ma per il resto ci siamo, raga. Cioè, non credo che la squadra abbia bisogno di grandissimi upgrade se non la punta. Non lo so, lo vedremo poi. E il Fulham ha appena vinto le fake up. Cosa sto vedendo? Vabbè, poco importa, raga. Schippiamo direttamente all'inizio della seconda stagione e ci occuperemo il prima possibile della gestione della rosa perché sono completamente completamente sfagiolati tutti quanti. Come fate a essere tristi di un'annata del genere? Tra l'altro non l'ho fatto vedere. Ma tipo in Carabao siamo arrivati ai quarti, abbiamo perso solo contro il Liverpool. In ogni caso, passando dalla stagione 1 alla stagione 2 e conseguentemente dalla Championship alla Premier, la primissima cosa da fare sarà purtroppo andare a riadattare tutti quanti i contratti di tutti i giocatori. Il motivo l'ho spiegato mille altre volte in passato ma in estrema sintesi. Su FC24, nel momento esatto in cui guadagni la promozione, tutti quanti i giocatori pretendono uno stipendio adatto alla nuova categoria. Quindi rinnoviamo tutti. Ok, splendori, dopo aver rinnovato quasi tutti i contratti, eccezione fatta per quelli di ATT e CDC, ma il motivo ve lo spiego tra un attimo, dovremo comunque rimanere con una bella somma in banca, ossia esattamente 100 milioni. Minchia, sono troppi i soldi, ma io come li spendo? Anche perché realisticamente, io ve lo dico, non ho intenzioni di apportare grosse modifiche a questo 11 titolare. Anzi, sono due gli acquisti che voglio fare, che sarebbero proprio una nuova punta e un nuovo mediano titolare, motivo per cui ho aspettato a rinnovare gli altri, così che poi le varie gerarchie vengano tarate con i nuovi acquisti e non con i giocatori attualmente in rosa. A centrocampo da Sumaremi sarei aspettato molto di più l'anno scorso, quindi comunque lo terrò ma come riserva prendendo un nuovo titolare e andando a vendere l'ex Samp Wings, mentre per quello che riguarda gli attaccanti la mia intenzione è vendere o poco, ridare in prestito Cannon e poi tenere Pazzondaka come attaccante di riserva mentre Yenaccio verrà ceduto per far spazio a una nuova punta come si deve. Non che Yenaccio non sia buono, ma a 27 anni questo bene o male è il suo tetto. Più di così non farà Daka ha un pochettino di margine di crescita in più, ma comunque non può essere il nostro titolare quindi abbiamo bisogno davvero di due nomi importanti. Pertanto come accennato andremo a vendere Wings, Yenaccio, Marsala, Tiatalla o Pocuebooth con Braybrook e Cannon che torneranno in prestito nella speranza che l'anno prossimo ci possano far o guadagnare qualcosina in più o entrare a far parte delle rotazioni. Il resto della squadra poi io non lo vorrei toccare, cioè mi piace come 11 titolare, ci può stare in Premier. Il mio obiettivo è riportare l'estero a giocare in Europa, avevamo 4 anni per farlo, almeno un altro anno a questi giocatori glielo voglio dare. Ma parliamo di acquisti e in particolar modo del GDC che voglio andare ad aggiungere a questa squadra che come overall potrebbe avvicinarsi a quello di Bissouma. Non dico proprio Bissouma in persona ma molto vicini. Sarebbe interessante prendere qualcuno di abbastanza giovane con un buon margine di crescita perché andare a prendere un 28enne che oltre all'overall attuale non va più di tanto non ha molto senso. Anche se un Oiberg che Irla è in uscita dal Tottenham non mi dispiacerebbe però è un po' troppo forte. Eh però guarda Ibrahim Sangaré bel giocatore 83 di overall il 26 anni al Nottingham Forest lui potrebbe starci. Tra l'altro è al Forest quindi non è che dice è in uno squadrone non verrebbe mai. Premesso che non mi interessa fare una rebuilding realistica comunque ha il suo perché Sangaré. Potrebbe essere interessante anche Yusufo Fana del Monaco e bonk innocent che è una cosa sbagliatissima da fare boncare gli innocenti però mamma mia Beppe in diai scimie cacchio questo sarebbe proprio un nome dall'Ester. Uh interessante anche Florentino però se me la metti così dunque ricapitolando per quanto mi piacerebbe prendere Beppe purtroppo no. Era il peggiore per il rapporto età overall quindi purtroppo mi tocca escluderlo e realisticamente guardandoci attorno qua Florentino sembra essere l'opzione migliore quindi quasi quasi vado sul portoghese mentre per quello che riguarda l'attaccante io in realtà un nome ce l'avrei è un giocatore che su questo gioco è sempre devastante un giocatore che in Inghilterra ci ha già giocato con risultati piuttosto mediocre ma che potrebbe provare a rifarsi signore e signori sto parlando di Moise Ken 24 anni 80 di overall se vogliamo guardare la cosa potrebbe anche essere verosimile visto l'attacco che ha la Juventus io Moise lo punterei non mi dispiace mi verrebbe a costare intorno ai 28 lui e intorno ai 45 Florentini sì posso dire che mi avanzano un sacco di soldi ma va bene così le casse del club respirano vero? che bullshittata minchia se vuole soldi il Benfica ok come non detto fermi 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 Marò 50 milioni 51 e 3 ok ma porca lo sto strapagando mentre quello che mi preoccupa riguardo che non è tanto il cartellino perché per l'appunto ce lo dovremmo cavare con pochi soldi ah Max ti serve un cdc al posto di un attaccante ok frate aspetta che ne dici di Harry Wings 6 milioni e mezzo più 21 cash di conguaglio eh eh bella idea no non vogliono Wings come non detto rimuovi clausole e ci sto ok perfetto e comunque sì perché ciò che mi spaventa non è tanto il cartellino quanto lo stipendio perché lui alla Juventus prende 100 mila dovrebbe abbassarselo sensibilmente per giocare qua sono disposto ad accettare uno stack più 800 mila vuole anche il bonus per i gol sai una cosa? va bene Moise direi che ci siamo la squadra c'è ora l'unica cosa che devo fare è cedere tutti quanti quelli che sono in lista trasferimenti e magari dare una dannata sistemata a questi allenatori perché fanno tutti schifo dal primo all'ultimo e qui purtroppo non posso fare meglio di così perché finché non trovo gente che abbia 5 stelle e soprattutto finché ho soltanto 13 slot almeno uno dei ruoli rimarrà sempre o pari o sotto no al cavolo almeno uno è sempre sotto le stelle ideali e con il buon Zaccaria venduto al volontario in Romania signori il mercato in uscita è ufficialmente completo pertanto siamo teoricamente pronti a fare il nostro nuovo esordio in Premier League contro lo United che mette in campo una formazione decisamente strana perché ok Anthony ok Rashford ok Malassia ma perché sta giocando Shola Shore Tire ma soprattutto perché gioca il signor Pesce secondo me non abbiamo nulla da invidiare Red Devils vediamo come va sta partita 3 2 1 pareggiamo 1 a 1 con i gol di Taremi fatta Wu oh regà non male io ve lo dico non mi aspetto di arrivare in Europa già quest'anno sarebbe un qualcosa di davvero troppo grosso ma mi aspetto una salvezza più che tranquilla quindi un decimo dodicesimo posto allora ce la siamo sudata molto più del previsto ma secondo me dovremmo comunque essere salvi giusto siamo arrivati quindicesimi con 46 punti non male anche perché chiariamoci l'anno scorso quindi nella stagione 22-23 46 punti ti avrebbero dato l'undicesimo posto quindi non stiamo andando male tra l'altro guardando la differenza rete abbiamo avuto una sfortuna immensa perché solitamente dopo il decimo posto anzi addirittura sotto l'ottavo ci sono soltanto squadre con la differenza rete negative invece noi siamo proprio piatti zero di differenza rete tra l'altro anche nelle coppie non abbiamo fatto brutta figura perché in FA Cup siamo arrivati ai quarti di finale non è vero agli ottavi dove abbiamo perso contro il Chelsea mentre in Carabao non voglio commentare quello che è successo perché siamo usciti contro il Raiding ai 32esimi 16esimi porca miseria ste coppe a livello individuale come siamo andati rega beh dai allora non la crescita che mi aspettavo da alcuni mentre molta più crescita da parte di altri tipo Coco 83 non me lo sarei mai aspettato così come il buon Fatavu sulla destra 84 è il nostro miglior giocatore ora per il resto buonissimo il più 4 di Christiansen che a sto punto potrebbe diventare il nuovo titolare con Riccardo Pereira che se ne va mentre Justin viene spostato a destra non lo so è un'opzione per il resto a centrocampo siamo andati bene Casadei ha fatto una bella crescita più 5 per il buon Cesare che fa 4 uguali 3 assensi in 19 presenze ma Vididi 16 e 3 fa più 2 Fatavu fa più 6 con 15 e 7 mentre Kane con 15 e 6 fa più 3 e Daka ha fatto una singola presenza ok questa è un po' poco però metto che questa squadra come Scheletro ci sta possiamo fare qualche miglioramento qualche netto miglioramento ma di base ci siamo non è così male cacchio Herman se non mi pento di non averlo fatto giocare in questi due anni sentite schippiamo alla season 3 e come detto questo deve essere l'anno in cui la squadra fa il grande upgrade per puntare già all'Europa non è facile in Inghilterra ma io voglio provarci il punto è che se intendo puntare all'Europa Hermansen non può mai fare il titolare ma proprio mai nella vita questo è brutto quasi quasi gli do mezza stagione di tempo poi nel caso intervengo sul mercato a gennaio clamorosamente mai fatto una roba del genere in una rebuild però potrebbe non essere un'idea stupida come detto sulle fasce poi per quanto mi dispiacerebbe perché è un giocatore simbolo vorrei vendere Riccardo Pereira per spostare Justin sulla destra e lasciare spazio a Christensen sulla sinistra che comunque ha 22 anni è un 78 l'ex Bologna si sta dando da fare ha comunque per i portieri a prescindere Unnerstall lo cedo non me ne faccio più niente ormai di Lars grazie per questi due anni di servizio ma questo era il mio piano per te dopodiché con Godfrey che vuole essere ceduto in realtà il resto della squadra si scrive abbastanza da solo Faes che va in panchina Sottar che rimane come quarto e Brandt che rimane come quinto a centrocampo va tutto più che bene regà Didi, Florentino, Sumare ci stanno Ciuderi come quarto di certo non me ne posso lamentare Diosbury Hall titolare Casa Dei dietro di lui centrocampo è perfetto regà non ho dovuto toccare praticamente niente anche se forse l'anno prossimo un upgrade a Didi non ci starebbe male forse già anche quest'anno dipende quanti soldi avanzano in ogni caso vediamo in attacco invece vorrei quasi far la follia perché siccome Daka ha chiesto di essere ceduto in prestito perché non dare un'opportunità a Tom Cannon 22 anni e 75 ma quasi quasi mentre sulle fasce Abdul è sicurissimo del suo posto Mekatir va benissimo come riserva Hakuna anche ha chiesto di essere ceduto in prestito quindi lo daremo via per un mese poi lo richiameremo mentre Mavididi forse è l'ora di cederlo 27 anni 81 non è cresciuto quanto speravo forse Mavididi ciaone quindi di fatto mi servono un difensore centrale e un ala titolari un terzino sinistro di riserva un portiere per il momento di riserva che però possiamo anche svincolare tra sei mesi se necessario e poi nel caso vediamo quanti soldi avanzano perché potremmo poi vendere in D.D. e puntare a rinforzare la mediana sai una cosa fanculo vado con la coppia Doku Stones andiamo a ricreare il City del 2023 minchia Borussia Dortmund quanti soldi vuoi per il signor John calmo 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 ma soprattutto Stones ha senso perché 31 anni non credo salga ancora tanto ma inizierà a scendere addirittura tra due anni no scusate ci ripenso addio Stones cancello tutto facciamo che prima vendo così capisco effettivamente quanti soldi ho a disposizione ci diamo quindi Unnerstall per 4 milioni e 4 ma soprattutto Mavididi per 44 milioni questa qua regà è una ladrata grazie Liverpool eppure Riccardo Pereira per 27 alla miseria quanti soldi ora ho quasi 200 milioni di budget forse Doku e Stones sono un po' poco appunto 172 milioni eh sì diamoci da fare intanto prendiamo Bentley a zero prima però una domanda perché siccome Godfrey aveva chiesto l'accessione in prestito e non a titolo definitivo se lo richiamo immediatamente che è una cosa ridicola poi posso metterlo in vendita yes che stupido guardalo qua il Bournemouth che è tornato alla carica dopo essersi preso Pereira bene è anche cresciuto di 3 milioni e mezzo il suo valore 22 milioni e mezzo sono dei cretini e ora abbiamo letteralmente 190 milioni ma io chi prendo con 190 milioni posso prendere chiunque ok credo di esserci come potete vedere a schermo ci sono una serie di nomi molto grossi più Matt Target che tra parentesi verrà a fare il terzino di riserve costerà circa 4 milioni mi pare il che mi lascia con 190 milioni più quelli della cessione di NdD perché regà a sto punto io andrei all in vendiamo NdD prendiamo Hoiberg al suo posto sulla sinistra prendiamo Jadon Sancho che come ben saprete allo United sta passando un periodo decisamente pessimo e poi al centro della difesa dipende o Guardi o Locconatea se conta di quanti soldi mi avanzano cominciamo quindi andando a cedere NdD allo United per 42 milioni dopodiché dentro Target per 3 milioni e 7 Sancho per circa 50 milioni Hoiberg per 46 e ora siccome mi avanzano esattamente 116 milioni direi che ne abbiamo più che a sufficienza per andare a prendere Joshko Guardiol assolutamente irrealistico ma frega Sega 85 vi bastano vero City? non gli bastano però per fortuna ne abbiamo abbastanza cazzo e prende anche una Sega di stipendio bravo Joshko chiudiamo quindi la rosa con 92 milioni di spesa per per l'appunto Guardiol con i soldi rimasti vado a richiamare a Gun dal prestito all'Aston Villa e ora direi che la squadra ce l'abbiamo e come avanzeranno soldi per comprare un nuovo portiere? No ma per quest'anno Hermansen va bene a sto punto nel caso ci pensiamo l'anno prossimo diamo fiducia a Christensen sulla sinistra così come a Justin sulla destra poi per l'appunto quelle tre sono le posizioni che potremo migliorare l'anno prossimo ma il resto c'è perfetto e una prima partita della terza stagione che sarà contro Newcastle che è letteralmente quello attuale non è cambiato di una virgola ci si è fatta per il portiere e il terzino sinistro la squadra è pronta prontissima oserei dire 3-2-1 simula perdiamo 1-0 col gol di Almiron peccato speriamo che il resto della stagione vada un po' meglio primo giugno 2026 e devo dire che siamo una squadra leggermente bipolare perché siamo stati in grado di battere sia l'Arsenal che il Chelsea che il City mi pare ma poi abbiamo perso contro lo Sheffield Wednesday al primo turno di Carabao quindi alla fine dei conti secondo me saremmo arrivati tipo decimi undicesimi no ottavi a 4 punti dall'Europa minchia così rosico però però sì se non fosse stato per sconfitte stupide contro il Brighton è un posto in Europa l'avremmo già avuto alla stagione 4 poi vabbè delle coppe non voglio nemmeno parlare perché siamo usciti agli ottavi no ai sedicesimi no addirittura ai 32esimi di FA Cup per la miseria sì contro il Brentford che però vabbè ci sta è una squadra di Premier però abbiamo perso 3-1 contro lo Sheffield Wednesday ai 32esimi questa volta per davvero di Carabao questo è decisamente imbarazzante in ogni caso a livello individuale come se la sono cavata i nostri c'è stata qualche crescita importante direi di sì però purtroppo non per il giocatore su cui ho appuntato tanto sia Christiansen si è fermato a 79 e sono tutti scontenti che esagerazione raga e sì che Christiansen ha giocato quindi non è che sia stato in panca tutto il tempo per chi ha giocato Fai se non Guardiol in base a quale logica l'unica risposta accettabile è Guardiol è stato infortunato ci fosse un modo per vederlo però è contento del tempo di gioco quindi vuol dire che forse è stato effettivamente quello il problema e allora lì è sfiga Sancho più 1 Agun più 1 Abdul Fatavu più 4 quest'uomo è il nostro pupillo Moise Ken più 2 a livello individuale come siamo andati 27 gol per Moise 15 per Abdul 17-10 per Jadon Sancho e poi il nulla cosmico e passiamo ora alla stagione 4 che di fatto è la nostra ultima chance per entrare a giocare in Europa in realtà con un paio di sfighi in me ne avremmo potuto raggiungere l'obiettivo già nella season 3 ma ehi è andata così e ora come dicevo le idee ce le ho già abbastanza chiare perché importa non intendo mantenere Hermansen come titolare che quindi farà la mega riserva perché un 81 è una mega riserva stesso discorso per il terzino sinistro con target che verrà ceduto Christensen che verrà scalato a riserva e un nuovo giocatore che verrà preso come titolare a meno che io non vada a rispostare Justin a sinistra per prendere un terzino destro che volendo è anche un'opzione al centro della difesa non tocco nulla perché guardio il coco con Faes mi sembrano un buon trio idem a centrocampo con Hoiberg e Florentino titolari su mare riserva e il buon Hamza come quarto giocatore Newsbury Hall è l'attuale capitano e mi scoccerebbe darlo via quindi comunque provo a tenerlo sempre con casa dei riserva sugli esterni d'attacco si è messi bene quindi forse ho bisogno giusto di un leggero upgrade ad Agun tipo un 81 non voglio nessun giocatore fenomenale e infine in attacco andrei a cedere lo zambiano Pazzondaca per tenere Cannon che comunque il suo l'ha fatto alla grande in quest'annata quanti soldi abbiamo per fare questi acquisti no chiedo perché sicuramente un botto 103 meno del previsto come portierino ho già in mente un paio quindi fatemi vedere se sono ancora qui in Inghilterra eccolo qua uno Jordan Pickford in scadenza con l'Inter tra 12 mesi che in quanto ex numero 1 della nazionale inglese potrebbe starci come acquisto un altro era Ramstale mi è cresciuto un po' troppo altrimenti la terza opzione era Guglielmo Vicario un portiere che il campionato inglese ormai in quest'universo lo conosce benissimo diciamo che il buon Guglielmo è mistuzzica mentre per quello che riguarda gli altri due giocatori prenderei Hazon Odoi dal Nottingham Forest e Robertson sulla sinistra che verrà a fare il nuovo terzino titolare anche se ha 32 anni quindi forse non conviene quindi niente ripieghiamo su Miguel Gutierre spagnolo del Villareal 24 anni 83 e poi la squadra c'è credo che anche in un'eventuale quinta stagione non ci saranno grossi cambiamenti e ora con questo 11 titolare raga io ve lo dico secondo me possiamo puntare alla Premier non sarà facile ma si può provare se quest'anno non arriva all'Europa è un fallimento eh siamo all'inizio della quarta stagione H al 2026 sono passati esattamente 10 anni dalla vittoria di quello storico titolo vi prego regalatemi un'altra gioia perché ce la meriteremmo l'esordio stagionale lo facciamo contro un Nottingham Forest incredibilmente OP Carnese, Kistons, Orban, Sangaré Nico, Dominguez, Mangalà e poi Sterling, Ocafor e San Maximan noi però siamo più forti vero? 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 ma come due a due? ma perché palle loro hanno fatto due tiri due gol noi quattro due gol eh non è che siamo andati tanto meglio è però uno rosica il simulatore di questo gioco è un qualcosa di disgustoso non ha il minimo senso e lo odio con tutto me stesso ah se la vedo male al giro di Bo al primo gennaio siamo settimi con 30 punti però in realtà a meno 3 dal terzo posto del Forest quanto è fottuta di cervello sta classifica se la guardi bene bello sto Tottenham quindicesimo certo noi continuiamo a perderci comunque uh attenzione perché vedo un neutrale in coppa e infatti siamo in semifinale di FA Cup non male regà il tutto mentre in Premier siamo al quarto posto ormai lo scudetto è andato perché Arsenal e City viaggiano a una velocità diversa però in questo momento abbiamo uno scontro diretto contro la Stonevilla che se dovessimo vincere ci porterebbe a più 6 dal Newcastle quinto bello torno a Turbo Simulare vediamo come va con lo Sheffield siamo in finale di coppa vinciamo con la Stonevilla poi ovviamente perdiamo col City ancora non li abbiamo battuti mi sa e forse una volta ripeto però comunque finale di coppa nice che ovviamente sarà contro il Manchester City andiamo bene alla fine della Premier la concludiamo al terzo posto quindi davanti per l'appunto al Villa con soli 68 put non sono tanti però buono che siamo in Champions l'anno prossimo a livello individuale mi sembra di aver intravisto qualche bella crescita e minchia lasciate perdere i terzini che sono fermi sono bloccati non crescono più Hoiberg è un 88 Abdul Fatavua è un 91 Ken 88 Sancio 87 Deusbury Hall soltanto un 83 è un peccato perché di fatto dei tre giocatori oggi all'interno di questa rosa soltanto uno è cresciuto bene l'attaccante mi dà fastidio che il terzino e il centrocampista non possano fare la stessa cosa c'è anche di dire che hanno qualche anno in più rispetto al ganese quindi potrebbe essere quella la ragione però vai a saperlo a livello individuale come siamo andati minchia Vicario ha fatto 5 assist come cazzo è possibile scusa? questa cosa è meravigliosa livello di gol Ken 26 Abdul 24 Sancio 10 e 10 Oiber con 9 a caso guarda che squadretta che schiera il City alla faccia vabbè pronti a perdere è stato bello crederci 3-2-1 simula la perdiamo in rimonta per via della dolpetta di Rodrigo peccato si rosica c'è anche di dire che se mi cambi due centrali per mettere dentro Cristian se ne fa e quindi l'anno prossimo Champions riusciremo a vincerla forse mi stai dovuto giocare questa finale di Coppa col senno di poi Big Skip ora la quinta e ultima annata dove il mercato non so bene a cosa servirà forse è davvero un terzino un centrocampista per quanto mi pianga il cuore ma Justin e Duesbury Hall forse è il momento di metterli in panca potrei vendere uno tra Braebrook e Casa Day tenendo Duesbury Hall come vice e andando a prendere un nuovo giocatore forse si è l'unica posizione in cui davvero mi senti dover fare un cambio prima però piccolo conteggio vediamo quanti dei 24 giocatori che fanno parte della Rosa o meglio che faranno parte della Rosa togliendo i due che abbiamo appena messo in vendita sono effettivamente parte dell'Ester Ehrl perché abbiamo Stolarczyk Hermansen teoricamente Kristiansen Suttar Faes Justin e Thomas Hamster Chaudry Sumare Duesbury Hall Mekatir Fatah Wu e Cannon sono 13 su 24 beh dai metà squadra certo su tutte riserve ma metà squadra quindi benvenuto Nicolò per 95 milioni dall'Inter diamogli un piano di crescita che lo faccia salire ulteriormente minchia ma non smette mai di crescere quest'uomo e ora che ci penso forse ho pochissimi giocatori per affrontare un'intera stagione di Premier Carabao FA Cup e Champions ma va bene noi siamo tipi tosti ce la caveremo così siamo pronti si parte guardate io mi accontento di un trofeo non mi aspetto di vincere la Premier perché ripeto è davvero tostissima vincere il campionato in Inghilterra così come non mi aspetto di vincere la Champions però o una Carabao o una FA Cup sì dai che idiota mi sono dimenticato di sistemare gli allenamenti vabbè sentite esordio stagionale al King Power Stadium contro l'Arsenal incrociamo le dita e speriamo tra 3 e 2 e 1 2 a 0 la doppietta di Abdul Fatahou un giocatore fenomenale e chi mi sono beccato nel girone di Champions perché ho visto il Celtic dal calendario e le altre due sono Leverkusen e Sporting ma allora il Leverkusen sarà tosta sicuramente ma Sporting e Celtic sono abbordabili e non mi dispiace seguiamo le avventure di questa squadra che ancora deve perdere in stagione abbiamo pareggiato l'esordio in Champions col Celtic avanziamo in Carabao battendo il Forest allora abbiamo lo Sporting con cui pareggiamo di nuovo pareggiamo anche col City attenzione non abbiamo ancora perso e siamo ad ottobre Leverkusen eccola qua la sconfitta il Bayern Leverkusen è tosto lo dico sempre che però ci batte anche il ritorno attenzione è problematica questa cosa abbiamo due punti in quattro partite dobbiamo per forza vincere sia con lo Sporting che col Celtic perdiamo con lo ragazzi siamo fuori dall'Europa porca puttana siamo fuori dall'Europa punto cioè anche il Celtic ha sette punti che tristezza niente il nostro esordio in Champions è stato una merda almeno in Premier siamo primi con 34 punti vabbè ok stiamo continuando a vincere tutte le partite in campionato è ottimo e ora perderemo col Midasbra invece vinciamo 3 a 0 e ora semifinale che è il Diogo Jota vai simula barella con un gol dopo quello di Abdul siamo in finale di FA Cup attenzione io andrei a giocare quella altro che il big match contro il Manchester però sarà una finale contro il Brentford è lame l'ho appena piallato 4-1 in campionato però cavolo battendo lo United in quella che per me è la 35esima giornata di campionato mentre per ora è la 36esima andrei a vincere matematicamente la Premier e quasi quasi mi gioco questa vincere la Premier è molto più difficile di vincere la FA Cup e però non giochiamo in casa quindi non si vedrebbe la premiazione a parte che tra parentesi bullshit però sti cazzi giochiamolo lo stesso nel caso della premiazione la vediamo alla prossima partita che bello e il sole mi dà proprio fastidio è troppo sole madonna non si vede niente sull'out di sinistra ma chi l'ha pensata sta roba ma chi le gestisce le luminosità abbassate il contrasto figa Rasmus Hoyl non si è allargato torna da Nuama in verticale misue gol dello United come cazzo si pronuncia quel nome Gabriel Misue devo cercarlo Gabriel Misue Misue siamo fuori ci siamo ci siamo ci siamo Deusbury Hall e vabbè fuori giochissimo non era fuori giochissimo bravo Ibagnes e vabbè regà è finita così è finita così per fortuna abbiamo un vantaggio di potenzialmente 6 punti su di loro però posso dire una cosa un po' brutta sono lenti e macchinosi non mi piacciono tanto come team ho costruito squadre ben migliori con il Lione e con l'Hamburgo magari non di fatto ma a giocarci mi sono sentito meglio con gli altri e ora dobbiamo chiudere con City Brighton Newcastle bella merda fra ho capito perdi contro City invece ci pareggiamo lo United è lì si sta facendo sotto c'è il Brighton 17esimo e va bene simuliamo questo game contro il Brighton speriamo di non perdere per favore anzi in realtà dovremmo proprio vincere perché l'ultima poi con il Newcastle non vorrei rischiare fatto sa che 3 punti qua ci farebbero vincere la seconda premier della storia Moise Ken Moise con la doppietta benissimo regà siamo ufficialmente campioni d'Inghilterra possiamo dirlo dilly dindilly don è certo ovviamente entro giusto per godermi la prima azione e concedo un rigore per un tocco di mano grazie signor Guardiol molto gentile Holly Watkins contro Vicario è bellino lui vabbè gestiamo palla bene signori è finita così Brighton 1 Leicester City 2 siamo campioni d'Inghilterra ed ecco qua Capitan James Justin uno degli unici due giocatori ad essere ancora presenti tra i titolari in rosa dall'inizio della stagione 1 afferra la coppa e l'alza alta su nel cielo di Brighton il Leicester torna a vincere la Premier dopo 12 anni dalla sua prima volta con Ranieri e lo fa con mister Enzo Maresca e ora occhio perché la festa potrebbe addirittura continuare dobbiamo semplicemente battere il Brentford nella finale di FA Cup i giocatori ci sono basta vincere a Wembley non chiedo nulla di più 3 a 1 che Noiberg Fatahou signori doppietta nel 2029 posso dire che ho di gran lunga superato le mie aspettative perché cioè come detto il mio obiettivo principale era portare questa squadra in Europa magari in Conference magari in Europa League abbiamo partecipato alla Champions e abbiamo vinto sia la Premier che la FA Cup e nonostante gli overall molto alti abbiamo avuto degli upgrade importanti tipo Vicario che arriva a 89 James Justin che fa più 2 e sale da 83 a 85 soltanto nell'ultimo anno più 3 per Hoiberg l'ho preso a 30 anni che era un 85 e è cresciuto fino a 91 in due stagioni Florentino è un 86 Barella è un 88 Sancho è arrivato a 89 Fatahou più 2 arriva a 93 Ken fa più 2 arriva a 90 eh bravi bravi bella stagione e comunque il mio preferito rimane Saul Cocco Guiné equatoriale 86 di overall mamma mia che bello io ripeto non ho molto altro a dire su questa squadra ha davvero superato ogni più rosea aspettativa GG chissà quale sarà la prossima squadra ad essere ricostruita grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.